Un successo netto per Ciro Buonaiuto, che si riconferma nuovamente primo cittadino di Ercolano. Una vittoria annunciata per il sindaco uscente, che ha riscosso quasi l'80% dei consensi nella tornata elettorale appena conclusasi. Un risultato che gli consente di rinnovare il proprio impegno per ulteriori cinque anni. Questa mattina i cittadini hanno espresso i primi commenti a caldo ai nostri microfoni, per la maggior parte a favore della riconferma di Buonaiuto. Restano comunque, secondo l'opinione degli ercolanesi, molteplici aspetti su cui lavorare, dalla problematica relativa ai rifiuti all'economia locale. Punti su cui la cittadinanza chiede maggiore attenzione, affidando nelle mani dell'amministrazione le questioni denunciate. Siamo qui ad Ercolano per commentare le amministrative il risultato che ha premiato nuovamente Ciro Buonaiuto. Un commento? La gente si ha votato Buonaiuto perché ha visto che si è mosso, ha fatto qualcosa per la città. Siamo qui ad Ercolano per commentare le elezioni amministrative conclusi ieri con la riconferma di Ciro Buonaiuto. Un commento? A me mi fa piacere perché Ciro è una persona seria. Cosa si aspetta adesso dal Buonaiuto Bis? Quello che ci ha promesso, poi non lo so, che gli altri non hanno fatto mai niente, speriamo che lui fa qualcosa. Cosa si aspetta adesso dal Buonaiuto Bis? La prima cosa è la trasparenza. Il paese era sporco e ancora sporco. Non c'è una disciplina ancora dei rifiuti, l'ha differenziato. A seconda le zone ognuno ci versa come arrivare e piace. È il mio sindico perché io l'ho votato e ne sono convinto abbastanza di quello che ha fatto. Che poi non ci accontentiamo mai. L'economia di Ercolano questa è. Non è che ci sono chissà quanti soldi che pretendono questo, questo e quell'altro. Però ti dirò, per le persone che l'hanno votato, l'80% vuol dire che ha fatto le cose buone. Cosa si aspetta adesso dal Buonaiuto Bis? Di continuare quello che lui ha promesso che faceva e che stava facendo. Siamo soddisfatti di Buonaiuto. Mi fa piacere che è salito a Buonaiuto perché ha trattato bene il nostro paese. Insomma, sono contento di questa cosa. Siamo qui ad Ercolano per commentare il risultato delle elezioni che ha visto il trionfo di Buonaiuto. Un commento? Per me tutta la popolazione di Ercolano non capisce niente. Perché sono 60 anni che a Ercolano non si conclude mai niente. Non c'è un parcheggio per la gente di Ercolano. Ha fatto tutte le strisce blè. Non c'è 10 metri di spiaggia per andare a mare. Un corso Ercolano l'ha rovinato. Non si capisce niente che corso è. È un corso principale che è stato da allora, da quando ero ragazzino, si andava in due versi, ora si va in un verso solo e sono chiusi tutti i negozi. Ci ha fatto piacere che è salito un'altra volta e speriamo che fanno le cose un pochettino in più dell'anno scorso. Questo è tutto. Le promesse si mantengono. Non è che si dimenticano.